Ammazzati a colpi di pistola, i loro corpi bruciati e dispersi per la sola colpa di aver tradito l'organizzazione criminale che a Canusa di Puglia pretendeva di comandare su traffici illeciti e distorsioni. Gli agenti della squadra mobile delle questure di Bari e BAT chiudono il cerchio su quattro episodi di lupara bianca avvenuti a Canusa tra il 2003 e il 2015. Le indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Bari hanno accertato che Sabino Sasso e Alessandro Sorrenti nel 2003, Sabino D'Ambra nel 2010 e Giuseppe Vassalli nel 2015 furono vittime di vere e proprie spedizioni punitive ad opera di un gruppo criminale composto da otto persone tra mandanti ed esecutori. La polizia ha arrestato l'ottantenne Cosimo Damiano Campanella, il nipote omonimo di 39 anni, e poi Daniele Pasquale Boccuto, Sabino Carbone, Marco Di Gennaro, Claudio Pellegrino e Cosimo Zagaria, tutti pregiudicati di età compresa tra i 30 e i 40 anni. Ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di omicidio premeditato, possesso illegale di armi, distruzione di cadavere, estorsione, violenza e minaccia pubblico ufficiale in concorso. Contestata anche l'aggravante mafiosa. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Alessandro Sorrenti e Sabino Sasso, di 26 e 21 anni, sarebbero stati uccisi nel 2003, il primo a Canosa e il secondo a Minervino Morge, per la pretesa di Sorrenti di comandare sui traffici illeciti. Sabino D'Ambra, 34 anni, sarebbe stato punito nel gennaio del 2010 per aver collaborato con la polizia fornendo informazioni utili all'arresto di un pusher dell'organizzazione criminale. E infine Giuseppe Vassalli, 26 anni, scomparso nell'agosto del 2015, colpevole di aver messo su un proprio giro di vendita di stupefacenti e di aver intrapreso una relazione sentimentale con l'ex fidanzata di un affiliato del gruppo. Le vittime vennero attirate con l'inganno nelle campagne di Canosa di Puglia e Minervino murge e uccise a colpi di pistola, i loro cadaveri vennero successivamente dati alle fiamme. Le arrestati rispondono a vario titolo, anche di violenza e minaccia nei confronti di un ispettore di polizia di Canosa, la cui autovettura nel 2014 venne perforata dai sei colpi di pistola e di estorsione ai danni dei giostrai del Luna Park allestito in città per la festa patronale del 2015, intimiditi dall'esplosione di 53 colpi di Kalashnikov all'indirizzo di rullotto e attrazioni ludiche costretti a versare la somma di 2.000 euro a titolo di protezione.